Presidente Sebastiani, lei diceva qualche istante fa dopo questa partita viene voglia innanzitutto di chiedere scusa ai tifosi? No viene voglia, c'è da chiedere scusa perché non dopo questa partita, dopo questo avvio, passatemi il turno, vergognoso di campionato perché questa non è una squadra che deve fare queste figure, noi non dobbiamo venire allo stadio pensando oddio speriamo che non prendiamo un altro gol, questa è l'idea che sta dando questa squadra in questo momento e credo che onestamente nei componenti non abbia questa qualità scadente per cui evidentemente c'è qualche problema che bisogna risolvere anche in fretta In conferenza stampa il tecnico Oddo ha detto io morirò con questa squadra, andrò avanti con chi mi vorrà seguire è sembrato di capire un Giacus nei confronti di qualche giocatore, probabilmente qualche senatore di questa squadra da cui ci si attenderebbe di più No, adesso non cominciamo a fare i processi a chi obiettivamente non c'entra nulla qui non ci sono senatori che vanno da una parte e allenatori che vanno dall'altra parte abbiamo appena iniziato il campionato, è un gruppo che è molto coeso, sta bene, si allena bene per cui bisogna trovare i correttivi per far ripartire questa squadra in tempi brevissimi Prima si parlava anche dei problemi di questa squadra, problemi di testa, problemi mentali, problemi tecnici le tante assenze, qual è la spiegazione di questo inizio di campionato secondo lei presidente così negativo? Le tante assenze possono essere un problema ma non devono essere un alibi certamente perché se no vuol dire che quelli che ci stanno non possono giocare e se non possono giocare l'abbiamo preso a fare quindi secondo me non è quello, il problema più grosso a mio avviso è un problema di organizzazione che sicuramente bisognerà sistemare meglio perché oggi il Frosinone addirittura in molti frangenti sembrava addirittura in superiorità numerica e non lo era Parlando di queste prime cinque partite e in proiezione futura cosa si sente di dire dopo le dichiarazioni che l'Eve ha fatto anche in settimana Massimo Oddo non si tocca, la posizione del tecnico resta salda? Sì, sì, ma l'ho detto prima a qualche tuo collega noi non è che possiamo ogni due o tre partite cambiare da allenatore perché potrà adesso successo all'inizio, speriamo che non accada più non è che magari potrà risuccedere più avanti, non è che se cambiamo un allenatore e poi partiamo due partite e cambiamo un altro allenatore le responsabilità quando succedono queste cose sono di tutti quindi non è solo l'allenatore che in prima persona sta lì e paga per tutti perché se no facciamo un altro discorso, i giocatori sono sempre esentati da tutte le colpe non è così, le colpe sono di tutti, sono dell'allenatore che è il capo famiglia anzi, il capo famiglia sono io, quindi per prima sono le mie poi dell'allenatore che li dirige ma anche dei giocatori Presidente, per chiudere, due domande che esulano un po' dal calcio giocato la prima, in queste ore, in questi giorni rimbalzano tante voci anche sui social anche su alcuni organi di stampa, di trattative per la cessione della società che sarebbero vicini alla conclusione, c'è qualcosa di vero? No, io vi ho sempre detto che io sto lavorando da sempre per questa situazione non solo per la cessione ma anche eventualmente per allargare la base societaria ma non c'è nulla e ogni giorno esce un nome diverso e mi faccio un sacco di risate Ultimissima Presidente, nelle ultime ore c'è stato il pronunciamento del Tribunale dell'Aquila per quanto riguarda la Cherelle con l'ex amministratore e socio di minoranza del Pescara Danilo Iannascoli quali saranno e se ci saranno le mosse della società dopo il pronunciamento del Tribunale Ma intanto, come ho detto ieri, per noi era importante capire prima di tutto che non c'erano responsabilità di nessuno degli amministratori e così credo che il Tribunale dell'Aquila l'abbia confermato in due gradi definitivamente Adesso ci fanno degli appunti su alcune voci di quel bilancio mi viene sicuramente, noi abbiamo un grande rispetto della giustizia e quindi sicuramente proporremo un appello su queste cose che ci hanno chiesto perché riteniamo che invece siano cose fatte nella maniera giusta ma la cosa che più mi fa sorridere è che l'istanza viene da uno, da un socio da una società socia del Pescara che probabilmente da quello che si vede perché sono dati pubblici, non sono sicuramente dati che dico io probabilmente non sa nemmeno di che cosa parla visto che da un lato contesta e dall'altro lato ci fa i complimenti sui suoi bilanci quindi delle due l'una, però purtroppo ci sta anche questo a me mi viene da sorridere, vi assicuro che non sono assolutamente preoccupato noi faremo tutto quello che c'è da fare, il Pescara non è assolutamente ancora nessun tipo di pericolo e vi dico di più che nel caso in cui dovesse arrivare a una cessione della società vorrei capire qual è il motivo per cui qualcuno discute sui bilanci dicendo che noi avremmo dovuto svalutare i bilanci dopodiché scrive sui suoi bilanci che il Pescara è una società florida che fa i complimenti agli amministratori per aver ben gestito e soprattutto che il suo valore che avrebbe dovuto svalutare nei suoi bilanci da anni è rimasto tale perché la società vale quindi a me mi viene veramente da sorridere però ci sta anche questo perché purtroppo mi sembra tanto la storiera della volpa con l'uva però va bene così